Il miglior amore è quello scomodo, come si fa a desiderare, no? Io mi ricordo una ragazza, sono una ragazza molto carina, l'ultimo anno del liceo, e mi dice io ho tanti problemi, ho tante paure, ma c'ho una paura più delle altre, qual è? Quella di innamorarmi, mi dice lei. Ah, dico, bella fregatura, e infatti, dice, io mi sarei organizzata così, mi fa lei, come dice, organizzata, che mi faccio piacere a quelli che non mi piacciono tanto. Si vedeva che aveva la fila dei ragazzi, degli chaperon sotto casa, faceva così, ne aveva 4 o 5. Appena vedo, intuisco, diceva lei, che c'è uno che mi fa perdere la testa, scappo via. Pensa cosa siamo riusciti a insegnare ai ragazzi, che le passioni sono le sabbie mobili dell'esistenza. Non avventurarti là, se non soffri. E quindi pur di non soffrire, divento una specie di sarcofago, mi metto lì dentro, e poi questa è la mia vita. Bisogna spiegare ai ragazzi che il miglior amore è quello tribolato, funziona così, è quello scomodo per l'appunto, è quello scomodissimo, è quello che ti fa essere incerto, insicuro, è tutto bello questo. Ma cos'è un contratto d'assicurazione l'amore? Cosa fai? Vai prima alle generali e poi vai a letto? Non so come funziona, è l'amore senza rete, è quello vero, che non sai come va a finire, anzi, più ti piace e più ti fa spavento, perché non sai se c'è domani e non lo puoi sapere se c'è domani, perché se no è un calesse, avrebbe detto Berini. È un'altra cosa, una robetta. La carità, vogliamo chiamare l'amore? Chiamiamola, volete chiamare l'amore quella roba? Chiamiamola, robettina, da sei meno meno. Il voto più votato d'Italia. Teniamoci questa scuoletta da quattro soldi, così che va benissimo. In questa scuoletta ci insegnano che la vita è sei meno meno, che è pornografico, sarebbe, secondo me, perché sei meno meno negativo, giusto? Bene, perché promuove? Perché gli vogliamo insegnare questo ai ragazzi, che non bisogna fare tutti questi sforzi, ti piaciucchia quella e prendi di quella. No, anzi, è così, è come la marmellata, meno c'è più la spalmi. Non funziona così, così non ti viene il mal di testa, non hai le ansie, no, tutto tranquillo. Non ho avuto la fortuna di conoscere persone speciali, è che ci sono andato io incontro, perché è vero che nella vita passano solo alcuni treni, quelli buoni, però bisogna andare in situazione, non entrano a casa tua, devi andare là. Ecco la cosa scomoda della vita, la cosa meravigliosa della vita. Ecco, quanto aveva ragione quello che diceva tutto quello che è comodo e stupido. È verissimo, tutto quello che è comodo e stupido funziona per la facoltà, che se tu scegli quella più vicina è stupida di sicuro, perché vuol dire che non vuoi fare nessuno sforzo, vuol dire che non hai nessuna abnegazione, non hai nessun sogno, non c'hai niente. Vuoi fare un burocrate. E funziona così anche in amore, se tu ti innamori di quella di sotto al piano è stupida. Perché in amore, lo sappiamo, no? Vince la paura, è bellissima. Si chiamano pene d'amore, anche lì l'italiano ci dà una mano. Pene, avete mai sentito il cacofonico? Non funziona, funziona molto bene pene d'amore, perché sappiamo, perché quando sei molto innamorato hai paura che quell'amore finisca, no? L'innamoramento non è un pret-à-porter, è un vestito di Valentino, è una cosa meravigliosa, è un amore unico, irripetibile. Non può essere quello che arriva alle 5 tutti i giorni con il garofano, perché se sei sana di mente gli dici amore mio cambia, eh? O no, prima che moriamo tutte e due, che le emozioni sono cose? Sabbie mobili? Ma state scherzando? Ma è il senso della vita, è il sale della vita le emozioni. Perdere la testa è una cosa meravigliosa, ma perché la testa deve stare sempre ferma? È bello perdere la testa. Mamma mia, l'hanno fatto tutti i grandi, tutti i grandi hanno perso la testa. Eh, se no, non sarebbero diventati grandi, scusate, eh? O no? Perché Michelangelo non aveva perso la testa quando ha voluto staccare quel pezzo di marmo alto 18 metri, tutto intero, e gli hanno detto tagliamo la Rocchi, dicevano gli operai alle Appuane. E lui disse, ma scherzi? L'hanno fatto i romani, lo faccio anch'io, no? E si stacca, è certo che si stacca, e muore un operaio, si ferisce lui. Pensate che è negazione, potete farla facile? Eh? Tutto quello che è comodo, è stupido, e tutto quello che è scomodo, è molto intelligente, e rimane nella storia. Ecco cosa dobbiamo fare, bellissimo. E dobbiamo insegnare ai nostri ragazzi che la passione è il motore della vita. A Parma un ragazzo mi ha chiesto che cos'è la passione, e gli dico, guarda, la passione è una cosa difficile da descrivere così, è un vento che ti travolgerà quando meno te l'aspetti, ti farà girare e rigirare tra le lenzuola mille volte una notte, finalmente non ne potrai più, e andrai alle 5 del mattino alla stazione per prendere il primo treno che ti porta da lei, questo mi guarda, mi fa perché alle 5 del mattino? Perché la passione secondo i social sarebbe così, ti mando un whatsappino, amore, se tu fossi qua tu non hai idea cosa ti succederebbe, però attualmente sono un po' stanchino, ciao. E poi, se tua mamma ti sveglia, se tua mamma ti fa perché ti deve fare il breakfast, se tuo papà ti porta a stazione, perché vuoi andare da stazione, sono dei pericoli che dobbiamo fare, evitare i nostri figli, ti raggiungeremo, ti raggiungerò, faremo un bellissimo after hour. Questa è la passione. E questa sposta le montagne, siete sicuri? Questa sposta le montagne, perché noi abbiamo bisogno di passioni che spostano le montagne. Ecco che cos'è il coraggio, il coraggio di immaginare, di immaginare una vita piena, che include anche il dolore. Allora, io credo che, ecco, l'avventuriero è quello che paga per le proprie scelte, ma almeno fa scelte di felicità. La felicità è ciò che ti rende ebro di emozione. Invece, altra sciocchezza, io sto raccogliendo le sciocchezze che dicevano i vecchi, che però sono ancora molto votate. Non prendere nessuna decisione sulla base delle tue emozioni. Mamma mia, pensa a cosa dicevano. L'unica cosa interessante è essere in qualche modo portati dalle emozioni. E sennò cosa servono le emozioni, scusate? Cos'è l'emozione? Quando la tua squadra vince uno a zero, cos'è l'emozione? L'emozione è quella tua, quella che ti costruisci tu. È quella che a volte, a volte è una lotta che dure tanto tempo. Non è un pret-à-porter l'emozione. Non è un lampo. Mi spiego? È una cosa che tu costruisci perché la costruisci innanzitutto dentro di te. Modigliani diceva questa cosa bellissima. Il nostro dovere reale, pensate già all'idea del dovere reale, che è bellissimo, è preservare il nostro sogno. Cosa c'è di più bello di una frase del genere? Dovere reale, che è un dovere che è perfino superiore a quello morale, perché è un dovere laico. ciò che tu fai per la tua vita a ciò che tu non arrivi vecchio a dire porca miseria l'ha buttata via. Ho scelto una normalità dell'esistenza. Mi sarebbe piaciuto far quel lavoro ma non l'ho potuto fare. Mi sarebbe piaciuto far quel viaggio ma non l'ho potuto fare. Mi sarebbe piaciuto avere un'altra donna ma non l'ho potuto fare. Cosa hai potuto fare? Niente. Ma è comodo questo. E' molto comodo. Ti siedi lì bestemmi sul mondo e poi tiri l'acqua. E' una cosa terribile. Una cosa terribile. Io penso che invece pensa un ragazzo questo la scriveva quando aveva 21 anni Modigliani. Ma è fantastico. Dentro, preservare. Vuol dire che il sogno ce l'hai dentro. Il sogno non è una di queste stelle nel cielo che tu devi rincorrere riprenderebbe. No, parte da dentro. Lo devi avere dentro. Lo devi scovare. Lo devi illustrare come un più bel piatto di argenteria che tu hai in casa. Lo devi preservare dagli attacchi, dalla mediocrità, dall'invidia. Pensa quanta fatica bisogna fare nella vita. Pensa quante stupidaggine che facciamo. è mostruoso. Siamo rimbecilliti dalla comodità. Tutto è comodo. E non ci accorgiamo che la comodità ci ammala il cervello. Non fai più uno più uno perché tanto basta tirare fuori il telefonino e sai quando è nato Mike Buongiorno. Non fai più niente. Non fai più niente. Non sai neanche più riconoscere le strade perché c'hai Google Map. ma non ci rendiamo conto che ci stiamo rimbecillendo. Io non sono contro le tecnologie però io credo che anche la passione del tentare del tentare con la propria testa perché se tu non c'hai la testa ma perché c'hai la testa per l'amore? Uno fa l'amore come vive o no? Se no cosa fai l'attore? Uno fa l'amore come vive paro paro o meglio mettiamolo in un altro modo. Ognuno c'è l'amore che si merita. C'è l'amore